Martedì prossimo, 2 febbraio, è la giornata dedicata alle zone umide e palustri. Nella nostra regione ce ne sono di molto importanti. Una di queste, particolarmente interessante sotto vari aspetti, non ultimo, quello della fauna ittica e acquatica, è in difficoltà. La riserva del lago di Canterno, in provincia di Fosinone, è infatti un luogo bellissimo, al quale le autorità territoriali non prestano l'attenzione che dovrebbero. Se da una parte gli ambientalisti hanno ottenuto negli ultimi tempi degli importanti risultati sul fronte della conservazione, dall'altra i sindaci competenti per territorio fanno orecchie da mercanti e non si impegnano a risolvere il problema di un depulatore consortile che inquina o a vigilare su chi getta impunemente immondizia nei fossi adduttori delle acque. Insomma, da una parte passi importanti per la salvaguardia di Canterno, dall'altra insensibilità verso il problema dell'inquinamento. Noi di Legambiente abbiamo sempre stimolato le istituzioni a far sì che questa riserva abbia il giusto valore sia ambientale che naturalistico, che un valore comunque di stimolo turistico per il territorio. Infatti, grazie alla convenzione ottenuta dalle Gambiente Fiuggi, il Parco degli Aosoni, con la Enel Green Power, che col cambio dei vertici sta dimostrando una sensibilità alle problematiche ambientali, siamo riusciti ad ottenere una convenzione per il mantenimento della quota del lago a 5,46, cioè una quota di acqua che inondasse la zona umida proprio per la riproduzione delle specie acquatiche. Ma qui comunque quest'area racchiude un problema, che è quello che in caso di piogge il depuratore, consortile, fiuggito, regaetane e trivigliano purtroppo può bypassare il 60% dell'acqua in ario. Questa la legge ce lo permette, però va in contrasto con quelle che sono le leggi, la legge 29 dei parchi e delle riserve naturali. Noi abbiamo comunque, per salvare, come si dice, capre e cavoli, proposto alle amministrazioni di creare uno sbaramento a questo punto. A questo punto è il punto più stretto, è chiamato lo stretto di Corniano, che mantenga uno sbaramento fatto con materiali naturali, che mantenga questa quota stabile. La nostra speranza è la nostra cosa in questa giornata mondiale delle zone umide, è quella che le istituzioni ci diano, si rendono conto di quello che stanno facendo, perché qui i rifiuti trasportati dai fossi che arrivano al lago è una cosa incredibile. Quindi salvaguardare l'immagine di questa riserva, salvaguardare la qualità delle acque di questo lago significa che qualcuno ci deve mettere le mani. Questo sbaramento, questo nostro progetto che abbiamo proposto, è l'unica soluzione al problema.